Quando sono alle sette, cioè all'imbrunire la sera, li vedi che escono, sembra che stanno a casa loro, pascolano tranquillamente, eccetera, eccetera, eccetera. Addirittura prima venivano le famiglie interi dei bambini e tardi pomeriggi venivano a fare la camminata, a portare a spazio i bambini, i figli, eccetera, eccetera. Adesso non possono venire più, perché sono pericolosi. A una certa ora te li vedi davanti, ma non uno, 30, 40, 50, quando, che adesso noi ci troviamo un po' lontano, se no io vi potrei portare, dove i segnali vivono. Io lo so benissimamente, là fanno tutte le cose loro, si partoriscono, hanno i cuccioli e tutto quanto. Niente, è pericoloso comunque, molto, molto, molto pericoloso, perché da un momento all'altro ti possono attaccare. Questo è lo sfogo di un cittadino che abita in contrada le piane a Isernia. È stata l'occasione per ribadire l'esasperazione di numerosi cittadini verso il proliferare incontrollabile dei cinchiali nelle campagne di via Maria Maticoli. Per allontanare i cinghiali c'è chi ha adottato alcune misure preventive, come recintare il giardino, in modo da impedirne l'accesso. Il problema è reale ed esiste in molte zone di Isernia. C'è chi passa la notte per vegliare il campo e impedire ai cinghiali di devastare il raccolto. Si tratta di vere mandrie che si spostano soprattutto all'imbrunire di notte, costituendo un pericolo anche per chi fa una semplice passeggiata all'aria aperta. Una problematica quella dei cinghiali affrontati in diverse sedi, ma forse mai in maniera incisiva e risolutiva. Le segnalazioni dei cittadini sono numerose. I residenti di contrada le piane sono sempre più preoccupati dalla presenza dei cinghiali, che ormai si aggirano abitualmente nei paraggi delle abitazioni in cerca di cibo, facendo molti danni, incutendo legittimo timore.